Aspetta, che succede? Che fai? Non hai detto che dovevi aiutarmi? Dove sono? Che succede? Sta colassando! È la confluenza! Yuri! I vampiri! Un momento, io vi conosco! Siete quelli del cosmodromo? I vostri volti sono familiari, ma diversi! Basta! Smettetela di spararmi! Fa male! Cosa volete? Grazie al cielo! Sono intrappolato nel vuoto da troppo tempo! Finalmente sarò libero! Grazie, Tofen! Sì, poveri e se ho l'altro vuoto! Ho intravisto molte cose! Cose impossibili! Poi svanite in un attimo! Sto vagando da tempo in memore! Esisto e non esisto! Compaio e scompaio nell'arco di un istante! Salvatemi dall'eternità! Esco giuro! Dovete liberarmi! Tutto questo deve finire!